E il 4.08 per i senatori. Schede, schede, facci vedere le schede. Cavaliere, sinistra in alto. Sedete. Non si vede mi citando. E la mea. La camera, 3.78. A sinistra, a sinistra. 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 Sinistra, a sinistra. Il 4.06. Eccolo. Eccoci. Eccoci. Signistra in alto. Il 4.06. Signistra, a me in alto. In alto. In alto. Cavali, grazie. Grazie. Aiutti, signori. Eccoci. Eccoci. Com'è con te. Com'è con te. Invece la signora fascina. Camera, 6, 5, 8, 3. Tante grazie. Buongiorno a tutti. Grazie.